Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete letto dal titolo quest'oggi andrò a parlare diciamo recensire La mia ultima canna da spinning light slash ultra light E darvi un po' di pareri e anche mulinello e filo Però come sempre via con la sigla Prima di andare a parlare un po' di questa attrezzatura Mi raccomando ragazzi lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando passate anche dei social e allora possiamo iniziare È ormai un paio di mesi che sto utilizzando questa attrezzatura qua E devo dire che l'ho sfruttata penso al massimo L'ho portata dai piccoli canali di acqua dolce fino al mare aperto E l'ho utilizzata possiamo dire più o meno in quasi tutti i casi Mi manca solo trotta torrente e trottaria Che sono i prossimi obiettivi dove portarla appena ho il tempo Però intanto posso dire che l'ho sfruttata in molti suoi doti In questa recensione parlo un po' anche per chi vuole comprare la canna Un po' in tutti i casi sia le versioni più pesanti che più leggere Se vorreste fare una combo canna e mulinello Diciamo abbastanza economica parliamo sui 100 euro Questa potrebbe essere una buona scelta insieme al mulinello Drex Che è anche quello se aggira sulla stessa fascia di prezzo Infatti abbiamo 50 euro di canna per 50 euro di mulinello Soprattutto se volete fare una combo budget E con quel prezzo per 100 euro potete avere un'ottima combo per pescare un po' tutto Adesso andrò a parlarvi Allora mettiamo giù la canna E così vi parlo Ok allora andiamo a parlare di questa canna Questa canna nasce per la pesca trottaria Come possiamo vedere ha il manico corto Ovvero la distanza dal mulinello alla fine della canna È veramente corta E per toglierci i dubbi ce l'abbiamo pure scritto Allora la mia canna intanto è la 2,12 grammi 2,20 metri Diciamo una canna abbastanza lunga Che permette ottime agitate e anche ottima precisione A lunghe distanze ovviamente Questa serie di canne è solid tip Ovvero con la cima riportata in carbonio Quindi c'è un piccolo innesto in carbonio Che in questo caso è tanto così Che è di carbonio pieno Questo cosa comporta? Comporta una maggiore sensibilità È una canna che è studiata per pescare con piccoli hardbait Parliamo di spoon, piccoli crank, minov e gerbait Non superiori ai 6 centimetri Perché misure più grandi sono più difficili da gestire Avendo la punta troppo morbida Questa canna infatti è perfetta per gestire esche come gomme Sia drop shot, testina piombata, spiombate, texas eccetera eccetera E metal jig Realmente per il metal jig permette di muovere l'esca in maniera fantastica Infatti un pregio di questa canna è sentire bene sia il fondo sia come lavora l'esca Dato che è dotata di questa grande sensibilità Abbiamo una grande percezione di quello che ci circonda Sentiamo bene il fondale, piccoli sassi, avalamenti, il tipo di fondale Possiamo sentire se il fondale è duro quindi roccia o terra battuta O un fondale più sabbioso quindi morbido Inoltre la sensibilità si fa notare sia su pesci di piccola taglia con mangiate veramente deboli Sia di pesci anche di grossa taglia però con sempre mangiate deboli Ovviamente le mangiate più forte è praticamente la strappa canna Questa canna ha una bella azione Ha una buona schiena in modo che in corrente e comunque con pesci di grossa taglia Possiamo forzarli e portarli a noi anche in maniera piuttosto veloce Guardate come tiene la corrente Si sta aiutando con la corrente e cerca di tagliare il filo sulle rocce Guardate che libre assurda Questo soprattutto con pesci forti o in fiume soprattutto dove hanno tanta corrente per portarli via Nella versione che ho io con un buon trecciato dello 006 al 008 Permette veramente lunghe gittate pure con le scheleggelle Parliamo anche con un grammo e otto E un buon trecciato Ci si fanno dei lanci veramente veramente lunghi Senza parlare di 7 grammi per esempio Metal Gigon Quello proprio andate nello spazio Come avete visto nell'episodio a carpe Veramente tanta precisione anche a lunga distanza Parliamo di un lancio di oltre 10 metri E far cadere una testina da un grammo e otto con una gommina Esattamente a filo del canaletto Quindi dove c'erano i paletti Parliamo delle doti in combattimento L'ho testata veramente con un sacco di pesci più o meno forti Con più o meno velocità Con le acque in acque correnti e in piano mare Sa tenere testa alle testate continue Quindi tutte botte continue Senza far rompere il filo Perché si ha una bella schiena Però ha anche una buona punta Che riesce ad assorbire bene le forti testate dei pesci Oh ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Bellissimo Anche quando dei treni iniziano a partire Riesce a tenerli testa e tenerli Senza alcun problema È dotata di anelli a ponte singolo Che non hanno problemi con la salsedine Ed è un'impugnatura veramente ergonomica In Eva Che permette di pescare anche ore e ore Lanciando e recuperando Anche facendo molte cercate Senza alcun problema Estetica, devo dire a mio parere Ha questa optical Veramente, veramente carina Possiamo vedere molti dettagli Come l'ottone Messo sulla canna Sono vari pezzi Che danno comunque Quell'effetto in più Un manico Splitted Ovvero Un manico diviso Con Eva Sia nera Che gialla Devo dire Gran bella canna Che si comporta bene Con reali carpe Sugarelli Ghiozzi Di tutto e di più E poterne in testa Anche a dei siluri Di buona taglia Quindi ora Andiamo a parlare del mulinello Che abbinato A questa canna Fa un'ottima combo Da trautare Ma anche Per la pesca e la carpa Si comporta veramente bene Data la sua frizione Intanto continuiamo Con l'estetica Questo mulinello Devo dire che Ogni giorno Mi piace sempre di più Ovviamente Bobina alleggerita Che fa il suo effetto Questo colore Che non saprei dire È un misto Tra Un misto Tra un ferro Con un po' di rosa Tipo gli iPhone Veramente carino Io Io lo possiedo Nella taglia 2000 Devo dire che Fa il suo effetto Manopola In sughero Che ci fornisce Un'ottima presa Però anche Suo stile Lo fa Poi cos'altro abbiamo Abbiamo una frizione Come dicevo prima Molto regolabile E Veramente molto sensibile Nel senso che Riusciamo a capire Come avevo già detto Quando l'avevo unboxato Sentire bene Quanto stiamo chiudendo Quanta pressione Stiamo imponendo E quando lo settiamo bene Questo Possiamo anche Far a meno di toccarlo Ha un'ottima frizione Che non si ferma mai E parte sempre Quando deve partire Molto fluido Ha un rapporto di recupero Abbastanza lento Un 5 a 1 a 1 Che è un ottimo rapporto Per pescare la trottaria Però anche con Altre pesche Dove abbiamo bisogno Di velocità Va benissimo Andiamo a parlare del trecciato Che è il viral Ormai si è un po' scolorito Ma ovviamente Buttandolo in mezzo Aighe, cannelle Chi più ne ha Più ne metta Un po' È ovvio che si scolorisce Però comunque Dopo due mesi Tiene ancora Come quando era nuovo Veramente veramente resistente Ottima tenuta al nodo Perché quando facciamo il nodo Non mi è mai capitato Che si rompesse A differenza di altri trecciati Che ogni tanto cede Magari dopo un po' di volte Che lo usiamo A differenza di altri trecciati Può essere un otto fibre Non si sfibra così tanto Ce l'ho ancora da nuovo Devo ancora tagliarlo Nuovo praticamente Ha solo perso colore E diciamo che L'ho fatto grattare In mezzo A tante cose Alge Cannelle Come ho detto prima Eppure Tiene ancora E mi promette di fare ancora Lunghi lanci Questa combo Ve la consiglio un po' Per tutte le pesche Che dobbiate Pescare a trotare A piccole trote Che dobbiate Tirare fuori carpe Di grossa taglia O siluri O magari trote in torrente Questa canna Può farle a caso vostro Grazie per la visione Ditemi qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate Lunedì Nuovo video sul canale Mi raccomando Lasciate like Con dei video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Per questo arriveranno Dei video Ragazzi Li sto editando ultimamente Mi lasciano senza parole Quindi Preparatevi Per questa recensione Era tutto Grazie della visione E ciao a tutti Grazie a tutti